Consigli per gli acquisti Spesso capita che i miei allievi quando suonano, quando fanno gli esercizi si lamentano appunto del piede che scivola, fanno fatica perché non tiene la posizione e la domanda è spontanea Proprio come i piloti che hanno bisogno di avere appunto il controllo, il grip sul pedale anche noi batteristi con la nostra monoposto dobbiamo appunto avere questo controllo e quindi stabilità anche nel suono Allora perché non affidarci a un produttore di scarpe per piloti? Sono andato subito sul sito della Sparco, ho preso il mio primo paio di scarpe da pilota Oltre a darvi un ottimo comfort, sicuramente il grip che danno queste scarpe è assolutamente perfetto Perfetto Qui sotto trovate il link del sito dove anch'io lo acquistate Andate a vedere se c'è qualcosa che vi può essere comodo I prezzi sono accessibilissimi Spero di aver dato appunto una risposta a uno dei tanti interrogativi che noi batteristi abbiamo durante tutto il nostro percorso Il consiglio per gli acquisti finisce qui Buon groove e buon grip Il consiglio per gli acquisti